siamo tornati di nuovo insieme a videotop e si parla di cinema su grande schermo il film è life firmato da anton corbin si parla di james dean con protagonista robert pattinson e la nostra alessandra mastronardi tra i vari in questa produzione internazionale dennis stock è un fotografo dell'agenzia magnum che sogna la copertina di life mentre sopravvive paparazzando divi dentro salotti esclusivi diviso tra new york e los angeles un figlio e un'ex moglie che gli rinfaccia la titanza dennis è invitato al party di nicolas ray dove incontra james dean reduce dal successo di gioventù bruciata e segnato dalle riprese della valle dell'eden il volto desolato a un passo dal mito colpisce dennis che propone immediatamente a life un servizio sul giovane attore ea dean di farsi accompagnare dentro la vita questo è il film di questa settimana videotop è intitolato life c'è un ragazzo che è interessante la sua goffaggine è molto naturale non è costruita si si chiama james dean voglio fare un servizio fotografico su un attore sconosciuto io sono jimmy io dennis che dici le facciamo queste foto mi farai diventare famoso garantito si va a bere qualcosa volete si sente nell'aria le cose cambiano nella musica nell'arte ovunque genie è tutto questo il signor warner ti vuole jimmy john berrymore dacos fairbanks kegney seguivano certe regole se sei a free bogart puoi anche vederti con qualche amico stai al gioco qualche settimana ancora un respiro e sorridi io perdo me stesso nei miei ruoli non voglio perdermi anche anche in questa roba che cosa c'è devi mollare tutto dai andiamocene via simi siamo molto felici di averti qui siamo fieri di te pensavo di trovare qualcosa di meraviglioso che si sarebbe rivelato a me il problema è che tu pensi a me come all'oggetto della tua ricerca è cambiato tutto così in fretta la fotografia è un bel modo per dire io c'ero tu c'eri viviamo di speranza è un bel modo per dire io questa volta anche il nostro corso che si sarebbe mi piace sia ancora un po' a me il motivo per dire io e lo per il modo per dire io non voglio che se stesse casare punti a me il 서ff. Ossfff. MIA. 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 nog. MIA. 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 Grazie a tutti.